L'ultima giornata del girone d'andata in Serie D ha visto solo tre abruzzesi in campo, due nello stesso, quello di Castelnuovo, in una domenica condizionata da rinvii, non per Covid, ma a causa neve. E allora la lacre e lavoro degli spallatori ha permesso di giocare sia al comunale di Castelnuovo che all'Aragona di Vasto e fanno festa alle squadre di casa. Perché i nero-verdi di Guido di Fabio battono 5-1 e la Giulianova, che gioca una buona partita, specie nella prima frazione, padroni di casa in rete grazie al calcio di rigore realizzato da Loviso prima della doppietta dell'ex Emili. Il Giulianova realizza con Paudice il gol che accorcia le distanze, ma nel finale sono sbarbati e bregasi ad arrotondare il punteggio e a mandare il Castelnuovo a quota 33 punti in classifica pari merito, con un campo basso che tuttavia ha ancora tre gare da disputare. Sono partite difficili da giocare, Giulianova è una squadra che è messa bene in campo, ti fa giocare male e abbiamo fatto un primo tempo sporco. Poi siamo stati fortunati in occasione del rigore che ci ha permesso di sbloccare la partita e poi nel secondo tempo sicuramente abbiamo avuto qualche spazio in più. Un primo tempo ho giocato bene, abbiamo tolto a loro le iniziative, siamo ripartiti quando potevamo farlo con molta incisività, abbiamo magari pressato in alcune occasioni davanti alla loro area di rigore, abbiamo anche avuto delle opportunità per andare a rete. Poi nel secondo tempo c'è stato subito il secondo gol che presumo, per carità non voglio togliere il merito a chi l'ha segnato, presumo sia un cross sbagliato, così è sembrato, non intenzionale e comunque non abbiamo mollato. Non stupisce più la avastese di Fulvio D'Adderio che batte tra le mura amiche e la Re Canatese, anche qui gara in bilico fino alla fine per le condizioni del manto erboso sommerso nella notte tra sabato e domenica dalla neve. Quando si scende in campo però, Emma Mona è il protagonista con una doppietta, prima rete nel primo tempo, la seconda in ripartenza con i biancorossi al settimo risultato utile consecutivo e lanciati alla rincorsa di un posto playoff. Il passo della Vestese deve essere un passo costante dove non ci dobbiamo esaltare, non ci dobbiamo deprimere, ci sono momenti in cui bisogna essere spregiudicati, momenti in cui bisogna tirare i remi in barca. Devo dire che il passo della Vestese è tutto da scoprire, anch'io non riesco a capire dove e come questa squadra potrà esprimersi, quindi navico a vista, se ci sono le onde non vedo, se non ci sono le onde ed è un po' piatto vedo un po' più lungo ma non vedo orizzonti davanti a me perché il calcio mi insegna di guardare sempre vicino e mai lontano. Domani invece il notaresco recupera la sfida con il Porto Sant'Elpidio rinviata ieri, si giocherà non al Vincenzo Savini ma proprio a Castelnuovo che ha messo a disposizione il proprio terreno di gioco. Fischio d'inizio alle ore 14.30. Fischio d'inizio